E' durante il giorno, non mi alzo presto, a volte le nove ecco, ma non tanto prima, faccio la mia colazione e poi, non so, mi metto o leggo o faccio le parole incrociate, poi viene l'ora dopo a preparare la tavola per l'ora di pranzo e pomeriggio faccio un piccolo riposino e poi lo passo così ancora, sempre perché lavori in casa non riesco più a farli, quando anche esco, ho la carrozzella e cioè mia figlia mi spinge per un po', poi mi alzo e faccio una camminata per cinque minuti, perché più di così non ce la faccio e poi mi risiedo, mi rimetto in carrozzella e con la carrozzina insomma mi ha dovuto ricorrere a quella. Le sette sto già facendo colazione, perché devo prendere medicina, una cosa l'altra, poi torno a letto un momentino, poi mi alzo, vado in bagno, praticamente io alle sette e mezza sono già in piedi, mangiare faccio io e il bagno lo pulisco io, tante cose, quel giorno che sto bene, quel giorno invece che mi alzo, che respiro in cantina, mi sedo sul divano, magari c'è il piatto, lo lascio io, lo lavo il giorno dopo che sto meglio, però non è che mi metto a piangere, ok? Alle volte riesco anche a fare di più, quando per esempio io non c'ho nessuno, io passo il mio straccio per terra, faccio tutte le mie cose, pomeriggio riposo e pomeriggio sono un po', perché non ho mai fatto del pomeriggio i lavori e neanche adesso. E poi dirò di più, io ho una bicicletta elettrica che vado anche in giro, quando il tempo mi permette che non faccia caldo, che non faccia freddo, metto il mio nel cestino, vado in farmacia, vado in cimitero, vado in parrucchiere, vado dappertutto. Al mattino se devo fare qualcosa cerco di uscire perché ho ancora l'energia per farlo, ecco, perché poi al pomeriggio veramente è un po' conclusa la faccenda mia, faccio una cosa, ho bisogno della poltrona, poi faccio un'altra cosa sul letto, è tutta una lentezza infinita e questa è una cosa che mi rende veramente, mi demoralizza, ecco, abituata poi ad avere una vita molto attiva, poi c'è le strade come sono, dissestate, le barriere architettoniche, tutte queste cose qui, per andare di là devi fare tutto il giro, facendo il giro, cammini di più, ti stanchi, cioè è tutto un circolo vizioso. Mi alzo, insomma, fra le 7 e le 8, ecco, tendenzialmente il mio attacco di tosse è più frequente che si verifichi la mattina, mi dedico a tutti gli hobby che non ho potuto coltivare, ho iniziato anche un corso di bridge, faccio un po' di volontariato, è una mensa della Caritas, cerco di rendermi utile, ho una mamma anziana, una suocera anziana, ho una nipotina che vive in Francia, quindi spesso la andiamo a trovare. Andando a concerti, spettacoli teatrali, incontri, presentazione di libri, eccetera, ho cercato un attimino di muovermi fra la gente in un ambiente sociale, quindi questo mi è stato comunque di aiuto sotto tanti aspetti, sia nell'allontanarmi appunto dalle sigarette e sia nel completare un attimo un percorso personale, nell'avere interessi già latenti da tempo, ma in stand-by iniziare appunto a tenerne conto. Poi per quanto riguarda la lettura, io leggevo tantissimo prima, ma poi quando si è trattato di muoversi all'esterno ovviamente il tempo per leggere si riduceva. Sto cercando di impegnarmi nel camminare con la speranza che il camminare con una certa frequenza e camminando veloce anche a livello polmonare un pochino di recupero ci possa essere. Mi sono iscritta in palestra, non mi ero mai iscritta prima e quindi cambiando radicalmente le abitudini, intanto a livello psicologico ci si guadagna. Anzi dirò di più, quando ho saputo di avere l'enfisema polmonare e la BPCO, subito dopo mi ero iscritta alla Stramilano. L'ho fatta camminando però è stata come una sfida alla patologia che era intervenuta. La prima cosa che ho fatto dopo averne avuto notizia.